Ciao ragazzi, come state oggi? Come avrete capito, visto che li avete davanti, siamo qui per recensire i Pet Parade Già, però apri allora Oggi sono stata malissimo tutto il giorno, quindi vi chiedo scusa Potrei essere particolarmente smorta, o potrei dire più cavolate del solito In tanti ci avete chiesto di recensire i Pet Parade negli ultimi mesi come Peritopolitos Ma anche in questo caso non ne abbiamo scelti noi Esatto, abbiamo fatto Surprise come Peritopolitos Di nuovo, esattamente, già E ci è stato mandato un cane, ma soprattutto due gatti Perché l'ultima collezione dei Pet Parade per l'appunto si incentra proprio sui gatti E dovete sapere una cosa sui gatti e su di me Elisa e i gatti non vanno molto d'accordo No, sono allergica in maniera mortale ai gatti Perché se sto in una stanza con un gatto per più di un'ora Sì, un'ora circa Trapasso, vado al creatore, muoio, insomma, quindi non ne so molto dei gatti E poi ci è stato mandato anche il playset un pochino deluxe Che è il carry key E poi lo vedremo più da vicino Ma ora vediamo i nostri due Pet Parade classici singoli In ogni modo ci è stato detto che c'è anche una mega community dei Pet Parade Cosa che non pensavamo Esatto, e quindi potete iscrivervi anche proprio col vostro cucciolo Vi lasciamo qui una card con il sito Le scatole sono identiche sia per i cani sia per i gatti Cambiano i colori I gatti hanno questo giallo Mentre i cani hanno questo rosa Sono a forma di borsetta Questo è il logo della serie Pet Parade E una cosa che mi lascia un pochino sotto shock Che ho appena capito È che la parola pet è un cane In che senso? Non vedi? Qua ci sono due zampe E questo è il corpo Quindi è sicuramente un cane O comunque un animale Ah, un pochino inquietente Questa sembra essere la cerniera della nostra borsa Quindi il nostro animale era rinchiuso nella borsa fino adesso Non lo so, non lo voglio dire Su questa etichetta c'è scritto join the club Cioè entra a far parte del club Ma io vi ho già lasciato la card per farlo prima Qui c'è scritto name me su un osso Perché ovviamente stiamo guardando la scatola del cane E dovremmo portare un nome a questo poveretto E in Italia sono distribuiti da giochi preziosi La scatola dispone anche di un try me Quindi possiamo infilare il dito E cercare di muovere il nostro pet parade E sembra che ci vorrà davvero un po' di tempo Per capire come riuscire a muoverli come si deve Grazie a questo bottone Che hanno qui sulla schiena Insomma possiamo riuscire a fargli muovere solamente la coda O solamente gli occhi O solamente la testa Ma sembra che ci voglia un pochino di esercizio Ecco Infatti su questa bolla qui in alto Ci dice che i pet parade sono consigliati dai tre anni in su E che con il tocco di un dito Prendono vita Walk me with my lead Cioè portami fuori con il mio guinzaglio Lead è guinzaglio E I pick up my bone Cioè che può prendere in bocca il suo osso Probabilmente ha una calamita sul muso Almeno crediamo Ok Probabilmente così Per quanto riguarda la scatola del gatto Dice esattamente le stesse cose Anche il gatto lo possiamo portare a spasso col guinzaglio Cosa che mi fa un pochino strano Insomma Perché portare in giro un gatto al guinzaglio Non escono da soli Non tornano a casa da soli Non lo so come vi ho detto Non so moltissimo di gatti purtroppo Ma andiamo avanti E poi ovviamente loro non prendono in bocca un osso Ma una wall ball Cioè gomitolo di cotone Questi sono i retri della scatola E c'è l'elenco di tutti i cani e i gatti che avreste potuto trovare Ma come sai da tu Elisa hai fatto tutte le cose a caso E quindi sicuramente ci sarà arrivato il cane e il gatto peggiore Complimenti a te Ti farei un applauso se avessi le mani Qui ci fa vedere meglio che possiamo scrivere proprio sulla sua targhetta il nome E in totale i cani che possiamo trovare sono sei Però non c'è il mio cane che ha un corgi E sono molto triste da questa cosa Perché non c'è la mia busy In ogni modo penso che mi sarebbe piaciuto molto ricevere lui Carlino forse è quello che mi piace meno tra tutti effettivamente Te le vai a cercare queste cose Elisa Te le vai a cercare È lo stesso per quanto riguarda i gatti E in questo caso mi sarebbe piaciuta lei Perché è tutta bianca ed è davvero carina A me piace quello tutto nero perché ha un cuore in testa Prima di togliere loro due dalla scatola Guardiamo anche il carry kit Mi piace perché anche la scatola è a forma di trasportino E questo è un nice touch E all'interno troviamo un gatto esclusivo Molto simile all'altro che abbiamo Solo che questo è più grigio Mentre questo è più blu E qui sul lato ci fa rivedere tutto quello che abbiamo letto sulla scatola normale Mi piace che il carry kit è scritto all'interno di una ciotola con una crocchetta a forma di pesce Possiamo provare anche lui dal lato della scatola Come potete vedere Ma è un pochino più difficoltoso Anche sul lato ci sono scritte le stesse identiche cose Solo che ci sono le traduzioni in tutte le lingue Tra cui l'italiano Il retro è l'unica cosa che cambia un pochino Ad esempio ci dice i nomi delle razze dei gatti Cosa che ci è utile Quindi quello che è all'interno del trasportino è un persiano blu Mentre l'altro che abbiamo trovato è un grigio charteau Ma non sono sicura sapete che io e il francese abbiamo dei seri problemi Quindi potrei avere appena detto la vaccata del giorno E quello bianco che mi sarebbe piaciuto avere invece è un persiano bianco E il tuo forbice si chiama semplicemente gatto nero È il migliore anche un nome che nessuno si dimenticherebbe mai Gatto nero Fantastico A differenza di un normale pet parade Il carry kit contiene anche una ciotola Una spazzolina e ovviamente il carry Non scordiamocelo E quindi togliamo tutto dalla scatola e ci vediamo dopo il cat Eccoci qui con i nostri pet parade fuori dalla scatola Volevo informarvi che toglierli dalla scatola è stato semplice Ma ci è anche servito un cacciavite molto piccolo Quindi cercate di averne uno nei dintorni Se no non li toglierete mai dalla scatola Sì, sono proprio antifurto Il gatto singolo e il cani singolo arrivano con due booklet Ci fa vedere i nomi delle sei razze che possiamo trovare in questa collezione E il nostro, come avevamo sospettato, è un pug Quindi è un carlino Sì, ci dice anche che poi ci sono altri tre cuccioli esclusivi Che arrivano con dei playset Ad esempio c'è il Westy che arriva con il carry kit dei cani Poi c'è il Bulldog che arriva con un intero giardino Accidenti, l'immagine è un pochino piccola Però mi sembra un intero giardino Incredibile E poi c'è un labrador nero Che arriva, sembra, con una vera e propria piscina Per cani Veramente piccola l'immagine Però sembra una piscina con dei cani che si divertono Ed è lo stesso per quanto riguarda il booklet dei gatti E c'è ovviamente il gattino esclusivo Che noi abbiamo Che è il persiano blu Ma anche un altro Con quella che sembra invece una vera e propria piscina per gatti Cavolo, l'immagine è piccolissima Con un siamese In ogni modo ecco i nostri animaletti visti più da vicino E il primo che vi voglio mostrare è il pug Cioè il carlino E quando lo prendete in mano Sembra quasi un po' facile Perché si muove un pochino da tutte le parti E la sua testa e i suoi occhi si muovono in ogni dove Buh! Poverino barra poverina Potete scegliere voi Ha la P di Pet Parade sulla coscia Perché stanno iniziando a girare dei tarocchi Quindi per ricordarci che questo è l'originale E ha un cuoricino sul bottone Che dobbiamo imparare a usare per muoverlo Ha la sua coda ricciolata come i veri carlini E sotto delle vere e proprie ruotine Grazie alle quali possiamo far muovere il nostro Pet Parade Ha un collare con tanto di medaglietta Sulla quale possiamo scrivere il nome Ma non è assolutamente removibile Per quanto riguarda il muso Non so se assomigli veramente tanto a un carlino Insomma i carlini forse hanno il naso un pochino più piatto Ma come potete vedere ha un buco Che gli fa avere questa espressione tipo Ooooo Che può interagire maggiormente con noi e con il suo guinzaglio Infatti come vi avevo fatto vedere dalla scatola Arriva con un guinzaglio Che è verde proprio come il suo collare E in fondo ha una calamita veramente molto molto visibile E qui in alto sul suo collare C'è proprio un segno molto visibile Con un'altra calamita sulla quale la possiamo infilare Per portare in giro il nostro amico a quattro zampe Come se fosse un cane vero Wow Wow Yeah Quando lo portate al guinzaglio tenetelo sempre bene in su Se no tendono a cadere di faccia Quindi cercate di tenerlo in alto Come se si trattasse proprio di un vero cane Se volete potete anche farglielo prendere in bocca Così da giocare a tira E molla con lui Cosa che anche il mio cane reale fa Però Oh Sembrerebbe che nel mentre ho vinto Come vi avevo fatto vedere dalla scatola Arriva anche con Il suo osso Che possiamo fargli tenere in bocca Yeah Il mio osso Yeah Oh 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 Nooo Ma la cosa più importante dei pet parade È sempre cercare di imparare a muoverli Grazie al loro magico tasto sulla schiena Cosa che è davvero complicata Come mi aspettavo Per ora il mio muove anche gli occhi in giro Per tutta la testa E sembra un povero pazzo Riesco un pochino a fargli muovere la testa Ma con la coda ancora non ci siamo Devo davvero impegnarmi Per adottare definitivamente il nostro cucciolo Qui abbiamo un adesivo su cui scrivere il nome Purtroppo non ci possiamo scrivere il numero di telefono Quindi state attenti a non perdere il vostro cucciolo Non tornerà mai a casa Come potrei chiamare il mio carlino? Visto che a me piace la scienza Ho deciso che il mio carlino si chiamerà Tecnezio Attacchiamo lo sticker sulla sua medaglietta Ah non potevo metterlo più storto di così Ma ecco fatto Tecnezio è diventato ufficialmente il mio carlino Yeah Vediamo se riesce a prendere il suo osso da solo Vai Vai Devi soltanto mettere più giù la testa Vai Ecco Questo era l'altro pet parade Nella scatola singola Ma gattino Anche lui è il collare In questo caso è giallo E ha la medaglietta a forma di pesce E anche nel suo caso non è removibile Ha i baffi che sono fatti in nylon E anche questa sottospecie di pettorina Che ovviamente non è removibile E ha la coda molto lunga Come potete vedere Non ha del pelo in più Cosa che invece ha l'altro gatto E anche i visi sono diversi Questo è per farci capire Quando un gatto ha più pelo E quando uno ne ha meno Ovviamente E per il resto È totalmente grigio I gatti sembrano essere Leggermente più facili Da muovere rispetto ai cani Ma per ora ancora Non ho imparato a fargli muovere la coda E sembrano muoversi come per un agguato Anche con loro arriva il guinzaglio Solo che qui è a forma di gattino E come vi ho già detto Mi sembra un pochino strana Questa cosa del portare fuori i gatti Al guinzaglio Sembra un pochino una cattiveria Ma come vi ho già detto Non so molto di gatti Quindi chissà Magari non lo è E anche con lui Si può sempre fare Il gioco diciamo Del tiramolla Con il guinzaglio Anche se Penso che i gatti Ci giocherebbero più con le zampe Che con la bocca Con tutti i gattini Arriva questa palla di lana A differenza dell'osso dei cani Però è calamitato solamente Qui alle due estremità Quindi state attenti Perché se cercate di farglielo Prendere qui in mezzo Non funzionerà Dovete per forza Mettergli la calamità in bocca E anche con loro L'effetto effettivamente c'è Dovete essere più bravi di me A farli muovere ovviamente Visto che ho dato al cane Il nome di un elemento Penso che farò lo stesso per il gatto Che si chiamerà Idrogeno L'ultimo che ci è arrivato Come vi ho già detto È un'esclusiva del carry kit Quindi del trasportino E come potete vedere È blu E anche i suoi occhi sono blu Ed è molto molto carino Ed è molto più peloso Rispetto all'altro Infatti anche la coda Vedete è più pelosa E anche qui hanno deciso Di mettere delle parti più pelose Anche qui dovrò dargli un nome Sì è decisamente il mio preferito E anche lui Arriva ovviamente Con la sua pallina E il suo guinzaglio Ma in più arriva con questa ciotola E questa spazzolina Io probabilmente avrei scelto Un accessorio diverso Semplicemente perché I pet parade Non sono flocked Quindi non sono neanche Un pochino pelosini E non penso che gli piaccia Che qualcuno gli spazzoli I baffi E questo è il trasportino Ovviamente è giallo Perché è per i gatti Ed è tutto in plastica rigida Non c'è nulla Che si può muovere In alcun modo Però possiamo ovviamente Infilarci dentro Il nostro gattino Ce ne sta soltanto uno E portarlo in giro Ho provato a portarlo in giro Per la stanza E stranamente Non è neanche caduto Il pet parade Ci sta davvero bene dentro E penso che possiate portarlo In giro Praticamente ovunque Senza che lui Crolli Ovviamente è un animale Non sbattetelo troppo Qui c'è anche un'etichetta Dove possiamo scrivere Il nome del nostro animale Si sa mai Magari lo lasciate Da qualche parte per strada Spero che non accada Con i vostri animali veri E ci arriva lo stickers Dedicato Fatemi pensare A che nome potrei dargli Visto che devo scegliere Un altro elemento Lui si chiamerà Ossigeno Ecco qui il suo nome Sul suo trasportino Bene ed ecco qui Tutti i miei pet parade Assieme Il mio preferito In assoluto È sicuramente Ossigeno Arriva con più accessori Ma soprattutto Il trasportino Mi ha stupito Perché come potete notare È davvero difficile Farlo cadere Quindi potete utilizzarlo Davvero per portare in giro I vostri pet parade I due accessori Che arrivano in più Sono carini Ma la cosa più carina È proprio il trasportino Per quanto riguarda I cuccioli singoli Non sono male Soprattutto se ci giocate Con i vostri amici Ma dovete davvero Imparare a riuscire A muoverli bene Con il loro bottone Cosa che non è affatto facile Bisogna davvero Fare esperienza Con questi pet parade Ovviamente voglio sapere Cosa ne pensate voi Se ne avete adottato qualcuno Se preferite i cani O i gatti O quanti ne avete al momento Se vi siete stancati Se pensate che siano Un gioco ripilante O se invece pensate Che siano carini Per quanto mi riguarda Penso che siano carini E penso che possono divertire Un pubblico Particolarmente giovane Noi ci vediamo domani Con una nuova recensione Vi ricordiamo Che siamo anche su Instagram e Facebook Se avete voglia Fate un'occhiatina Se no non importa Insomma fate quello Che vi sentite Io me ne torno a letto Perché continuano a stare bene Me ne vado Ciao a tutti E mi lasci con lo zoo Sulla scrivania Awww Ciao a tutti Ciao a tutti